Ecco 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 bene, fa piacere adesso però sono ancora finito cosa mangi ancora? voglio mi sento pieno adesso voglio voglio un misto di pesci fichio no, non puoi voglio scrivi le gambe lì alla riga prenditi poi voglio risalto di mare prendi tutti e due no, aspetta, risalto di mare mi sa che è fuga lascia allora voglio prendi le sussi vette va bene le sussi poi la 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 vuoi spiegare i camberi? posso chiederti? si ma spiegare i camberi? io le ho ordinati una volta si ma posso ordinare altra volta? non vada a questo eh? si si vuoi tirare due di questi 10 e due guarda questo questa è la salata di mare come ce c'è dentro? questo ha questa qua? tutto crudo Sì, grazie.